Fabio Menniti, direttore artistico della Passione di Cristo che si è appena conclusa, Falerna Paese. Salve, grazie a tutti per essere intervenuti qui alla Passione di Cristo, questa è una manifestazione che realizziamo da diversi anni qua a Falerna Paese, nel tempo è cresciuta anche come partecipazione tra attori e figuranti, siamo arrivati oltre i 100 partecipanti, come avete potuto notare è una manifestazione che ripercorre quelli che sono gli ultimi attimi di vita di nostro Signore Gesù, viene ripercorsa secondo un percorso appunto che viene svolto nel nostro centro storico. C'è sempre ogni anno un'emozione diversa perché poi i partecipanti a volte cambiano, ci sono anche condizioni medio diverse, le condizioni anche dei sentimenti di ognuno di noi che cambiano di anno in anno e ci fanno sempre emozionare. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Cosa spinge il cittadino di Falerna a partecipare a queste manifestazioni? Allora, è una manifestazione che è comunque nella quale si sentono tutti legati e per la quale tutti sentono la necessità di essere presenti e partecipi, di fatti chi non può recitare comunque partecipa come popolo o comunque come collaboratore esterno, quindi c'è un forte valore identitario in questa manifestazione. Appuntamento al 2025? Sicuramente, speriamo di essere sempre, di crescere, di imparare dagli errori e comunque di regalare emozioni e di vivere nella fede questi sacramenti. Grazie. 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 Grazie.